Domenica 18 luglio si sono conclusi a San Cono, in provincia di Vibo Valencia, i festeggiamenti dedicati al santo, da cui la cittadina prende il nome. La piccola Borgata, frazione del comune di Cessaniti, custodisce una miracolosa reliquia, un dito carbonizzato del santo tegianese, conservata nella teca che il santo porta sul petto. Le tracce della sua storia e di come tale reliquia si trovi a San Cono si perdono nella tradizione popolare, in quanto non si conosce né come né quando questa si aggiunda nel piccolo paesino. La storia di questo borgo narra che, in seguita ad un terremoto nel 1783, la reliquia si perse sotto le macerie e fu lo stesso santo tegianese, nei sogni di un'anziana signora, ad indicare dove scavare per ritrovarla. Per sperimentare se il dito fosse veramente quello del taumaturgo, il parroco lo mise più volte nel fuoco e più volte questo balzò fuori dal bracere, fino a colpire in ultimo, tra incredulità e meraviglia, l'occhio del parroco accecandolo. Alla luce di questo avvenimento si decise allora di spostare e conservare il dito del santo in un'alta frazione di Cessaniti, ma nella notte la reliquia scomparve per poi essere ritrovata la mattina seguente proprio a San Cono. A furor di popolo, in onore del santo, fu così realizzata la statua che venne consegnata alla comunità nella terza domenica di luglio. In occasione dei 150 anni della canonizzazione del santo patrono, che viene festeggiato anche il 3 giugno, l'evento quest'anno è stato celebrato con una settimana di festeggiamenti. A prendere parte alle celebrazioni in onore del santo, anche una delegazione di Teggiano, con la quale il parroco di San Cono, Don Giuseppe Pileci, ha voluto rinnovare il consolidato patto di gemellaggio tra le due comunità cristiane. Dopo il suo discorso, il parroco, i rappresentanti del comitato di San Cono e gli amici di Teggiano, rappresentati da Cono di Sarli, Antonio Arenare ed Antonio Setaro, nella parrocchia di San Cono, alla presenza dell'intera comunità, hanno siglato il documento di amicizia, a testimonianza del profondo legame tra sanconesi e teggianesi. Diversi poidoni scambiati tra le due comunità, tra i quali il libro sulla vita di San Cono di Fabio Bonomo e gli epigrammi dei canonici di Cosenza. Al termine della cerimonia, Cono di Sarli ha voluto ringraziare tutti i sanconesi per l'affettuosa ospitalità, porgendo anche i saluti di Don Giuseppe Pulpo, parroco della cattedrale di Teggiano.